Bentornati amici, dopo un po' di esperimenti sono qui oggi per parlarvi bene del 4K. Cercherò di essere breve e di non annoiarvi con troppi dettagli tecnici. In questo video andiamo semplicemente a sviscerare i motivi per cui secondo me è conveniente cominciare a lavorare in 4K nel 2022. Cominciamo andando a parlare di che cos'è questo 4K. Per 4K sostanzialmente si intende la risoluzione delle immagini che andiamo a registrare. Quindi laddove noi siamo abituati a lavorare in Full HD, il Full HD misura 1920 pixel per 1080. Questo significa che ha un dato rapporto tra il lato lungo e il lato corto, la cosiddetta razio, e questa viene mantenuta perché nel momento in cui noi andiamo a lavorare in 4K abbiamo lo stesso rapporto, solamente che il tutto viene sostanzialmente moltiplicato per 4, da cui il nome 4K. Quindi stiamo parlando di una risoluzione che è molto superiore a quella del Full HD a cui siamo abituati. È molto superiore anche a quelle che sono spesso e volentieri le nostre necessità, perché vi faccio presente che la risoluzione serve ad avere dei formati maggiori, quindi una risoluzione 4K serve fondamentalmente se noi abbiamo un monitor più grande. Nel momento in cui la maggior parte di noi, se non la totalità, vanno a fruire i contenuti via mobile, sostanzialmente questa risoluzione non è più così necessaria, perché noi abbiamo un formato gigante e stiamo andando a fruirlo piccolo così. Allora perché conviene lo stesso lavorare in 4K? Andiamo a vedere i motivi. Motivo numero 1. Fondamentalmente il 4K è destinato a diventare il nuovo standard di produzione video. Molti videomaker là fuori lo utilizzano già da diverso tempo. Se state dietro alle diverse tecnologie che vengono buttate fuori dalle diverse case di produzione, vi renderete conto che il 4K rientra sempre più spesso nelle specifiche delle nuove fotocamere e videocamere che vengono lanciate sul mercato. È pieno di fotocamere che fanno 4K. Io ormai ne trovo poche che non lo fanno più. Nel senso, devo dire che anche le fotocamere e videocamere di fascia bassa, anche l'entry level, ormai ti buttano fuori un 4K con dei codec magari che fanno schifo, con una profondità colore insufficiente a fare dei lavori seri, ma ciò non di meno ti buttano fuori un 4K. Questo perché comunque ti stanno facendo vedere che hanno quel qualcosina in più. Quindi anche l'amatore, anche se non potrà fare una postproduzione invasiva su questi file d'uscita, perché sono file magari che hanno una profondità colore non sufficiente o che non hanno dei codec che sono adatti a lavorare in un certo modo, potrà comunque avere l'illusione di aver fatto anche lui il filmato a una risoluzione maggiore col 4K. Poi magari con una lente schifosa, quindi formato più grande e lente schifosa, si vede peggio perché ogni difetto della lente verrà amplificato dal fatto che la risoluzione è maggiore. Però questo gli amatori spesso e volentieri non lo sanno o non lo tengono in considerazione o non gli interessa perché essendo amatori non vogliono spendere di più per avere la strumentazione professionale. Quindi ci sta. Sono strumenti che comunque anche io utilizzo perché anch'io ho delle camere entry level che comunque fanno il 4K. Di solito non lo utilizzo. Non l'ho mai utilizzato in maniera pervasiva sostanzialmente per un motivo, perché il mio cliente tipo vuole ricevere il video via WhatsApp. Quindi per me diventa una difficoltà lavorare in 4K per poi fargli il video che deve andare in giro semplicemente come invito di WhatsApp o come post di Instagram. Diventa una complicazione in più per me perché a quel punto devo lavorare quasi come se stessi girando uno spot pubblicitario di livello alto per quanto riguarda il file d'uscita, perché poi spot pubblicitario serio c'è uno staff di 30 persone, quindi non è quello il caso. I registi di una volta non fanno lo stesso lavoro dei videomaker di oggi purtroppo e parleremo anche di questo in un video che ho intenzione di pubblicare appena avrò messo insieme il materiale. Fatemi sapere se vi interessa un confronto tra come si lavorava dieci anni fa e come si lavora oggi. Ovviamente non stiamo parlando di produzioni pubblicitarie di alto livello, però nel momento in cui io ho un file d'uscita che è girato in 4K con tutti i sacri crismi, diciamo che sostanzialmente sto dando lo stesso livello del file d'uscita al mio cliente, un cliente che vuole ricevere quel file su WhatsApp. Quindi sostanzialmente io sto sprecando un sacco di tempo e di risorse, perché sto facendo, sto usando magari una camera più complessa da usare, più pesante, sto usando una camera comunque più costosa, quindi sto portando della strumentazione migliore in loco. Questa sembra una cavolata, però è evidente che non lo è se ci pensate, perché nel momento in cui un cliente mi commissiona un lavoro, un conto è dire vengo a fartelo con lo smartphone, lì siamo a livello amatoriale, anzi anche peggio. Altro conto è dire vengo a fartelo con una fotocamera o videocamera entry level e basta. E quello è un altro step. Ci siamo passati tutti, non crediate. Io non ho fatto la fase del cellulare solamente perché quando ho cominciato io gli smartphone ancora non esistevano. Questo vi dà degli indizi prepotenti sulla mia età, ma smettetela di indagare. Uno step successivo ancora può essere io mi presento con fotocamera full frame o videocamera, comunque professionale e basta. Step successivo è mi presento con fotocamera, videocamera full frame e set di luci, set di modificatori e macchina del fumo. Toh, butto lì. Un altro step successivo ancora può essere io mi presento con fotocamera, stativi, set di luci, macchina del fumo, microfoni, boom operator, cioè un omino che sta lì con l'asta del microfono per microfonare la mia scena, direttore di produzione, trucco e parrucco e altre dieci persone. Capite che sono livelli differenti. Ovviamente se nel primo caso sono andato lì con il mio cellulare, quindi la spesa da parte mia era zero, nell'ultimo caso la spesa da parte mia, da parte di chi si accolla alla produzione è io devo avere un camion, quindi devo o comprare o affittare un camion. Devo avere una videocamera prestante perché avere uno staff di dieci persone e poi girare col cellulare è da stupidi, quindi a quel punto ti porti dietro una Red, ti porti dietro una Harry, delle videocamere da cinema che costano decine di migliaia di euro, quindi non stiamo più andando lì col cellulare. Capite, con questo paragone che mi rendo conto essere estremo, ma capite che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa dire mi presento a farti il video in 4K col cellulare, che l'iPhone lo fa il video in 4K, ma non è la stessa cosa dire mi presento con uno staff di dieci persone a farti un video in 4K, non è assolutamente la stessa cosa. Se io dovessi mettere in campo uno staff di dieci persone e una videocamera Red, una videocamera Harry per fare un video che il mio cliente finale vuole ricevere su Whatsapp e al massimo mandare in giro su Instagram, credo che saremmo fuori target e fuori budget di parecchio, perché abbiamo a che fare con un cliente che vuole un videomaker di tipo nuovo, non di tipo vecchio. Quindi un videomaker dei giorni nostri purtroppo, dico purtroppo, non può lavorare con quegli standard di produzione, perché non sta facendo un film da Hollywood, non sta facendo uno spot pubblicitario, sta facendo un prodotto che per quanto possa essere fatto bene e si cerca di farlo nel migliore dei modi è usa e getta, è completamente usa e getta. Non è un film che girerà nelle sale per tre mesi e che poi finirà su DVD e Blu-ray, no! È un video che andrà su Whatsapp solamente per quella domenica, perché domenica 13 febbraio il cliente ha deciso che sta aperto e vuole fare un mini video per dire ai suoi clienti che sta aperto e lo vuole mandare via Whatsapp, ok? Quindi non è una produzione che rimarrà lì, è una roba assolutamente usa e getta. Questo non vuol dire che lo possiamo fare male ovviamente, perché se lo facciamo male il cliente non ci chiama più, quindi non diamoci la zappa sui piedi, non è questo che vi voglio dire. Quello che vi voglio dire è che la maggior parte delle volte io non lavoro in 4K. Non lavoro in 4K per questo motivo, perché non ho voglia di portarmi dietro la strumentazione più complessa che ho e di avere un flusso di lavoro molto più pesante per avere un file molto più complesso, più difficile da gestire, con tempi di export più lunghi e con un affaticamento maggiore per trasferire il file al mio cliente. Dovrò fare tutto questo lavoro che mi costerà tempo, tempo che la mia macchina, il mio computer sarà immobilizzato, perché sarà facendo un export di un filmato 4K pesante da mandare al mio cliente e quindi farà fatica a mandarglielo e il mio cliente poi lo riceverà e lo tratterà come un filmato a 720p e lo manderà su WhatsApp ai suoi contatti. Quindi io al momento non sto lavorando quasi mai in 4K, semplicemente perché reputo che non mi convenga. Il metro della convenienza è molto attendibile in questo lavoro, quindi dobbiamo ascoltarlo. È una sorta di sesto senso che ci dice se una cosa è fattibile oppure no. Tuttavia, nonostante tutte le cose negative che vi ho detto sul 4K, che quindi non potrò più dire nel video che avevo in mente di fare successivamente sui motivi per non utilizzare il 4K, dovrò inventarmene degli altri ma non vi preoccupate, ce la farò. Adesso andiamo a parlare dei motivi per cui invece è assolutamente conveniente. Primo motivo fra tutti, soprattutto se siete dei content creator o se siete dei videomaker, passare allo standard del 4K è una cosa di cui vi potete sicuramente freggiare, cioè in mezzo a una selva di competitor che girano magari in 720p o girano ancora in full HD, il fatto di dire io vi propongo il 4K non è un plus tanto per il cliente a livello di risoluzione, perché il cliente probabilmente neanche lo capisce, il cliente non ha la minima idea di cosa sia la risoluzione, la confonde con la qualità. Sono due cose diverse, un conto è la risoluzione che è la dimensione e un conto è la qualità che è quanto bene riesco a vedere. Sono due cose completamente diverse, tant'è che un filmato girato in 4K se ha una lente schifosa può essere orribile. Mentre un filmato girato in full HD se poi è proiettato su un monitor retina fatto bene, si può vedere benissimo. Quindi non è quello il punto, il cliente neanche la capisce questa cosa, però sa che esistono i televisori 4K, perché il televisore 4K a casa ce l'ha di sicuro. E quindi quando gli dite 4K, ah la risoluzione del mio televisore, quindi gli è familiare quella roba lì. In qualche maniera è un gancio che si può sfruttare, inoltre è sicuramente superiore al full HD, questo lo sappiamo tutti. Si parla di 4K e di ultra HD come nuova frontiera, come nuovo standard, quindi assolutamente è una cosa che abbiamo nelle orecchie. E quindi può valere la pena proporlo. Un altro motivo per cui può valere la pena proporlo è che per esempio YouTube valuta molto positivamente il fatto che i contenuti siano caricati in 4K. Lo valuta positivamente non tanto per offrire un'esperienza di visione migliore agli utenti, perché non è questo. Perché la maggior parte degli utenti fruisce i contenuti via mobile. Io stesso fruisco i contenuti via mobile più che via computer. Magari dal dentista sto aspettando il mio turno, mi guardo un video da 20 minuti. Insomma, tutti noi fruiamo i video prevalentemente da mobile. Questo che cosa significa? Che stiamo probabilmente guardando in un formato che è molto più piccolo del 4K. Neanche 720p. Stiamo guardando proprio alla risoluzione minima possibile per non affaticare la nostra banda, per consumare meno traffico dati. Questa è un'impostazione automatica della maggior parte dei cellulari. I cellulari non ti fanno vedere il formato più grande, ti fanno vedere quello più piccolo. Anche perché è una risoluzione enorme. Su un display piccolo così non si vedrebbe tanto la differenza. Quindi conviene anche a noi scalarla. Non è che stiamo vedendo peggio punto. Stiamo usando meno traffico dati e stiamo vedendo una cosa che è adatta al monitor che stiamo usando. Quindi ci sta. Quindi diciamo non è tanto un plus per gli utenti, però può essere un plus per l'immagine in sé. Nel momento in cui giriamo in 4K ci sono due cose che succedono. La prima è che molto probabilmente stiamo usando una camera non entry level, stiamo usando una camera di fascia non dico alta, ma quantomeno media. Perché comunque le camere entry level, se si gira in 4K, si surriscaldano prima, hanno problemi con la memory card, quindi si bloccano molto spesso. Io ho riscontrato questa cosa. Anche per questo uso poco il 4K, perché comunque molte fotocamere entry level o non di fascia top non sono prestanti dal punto di vista 4K. Quindi se voglio girare 3 minuti in 4K va bene, ma se voglio girare 10 minuti in 4K mi si inchiodano, si piantano lì. Quindi è una cosa che non vado a offrire spesso al mio cliente perché poi faccio la figura, cioè mi si pianta la camera. E però non ho neanche voglia magari di utilizzare sempre la mia attrezzatura top di gamma per un prodotto usa e getta che poi sta online letteralmente 10 secondi. Il tipico video, facciamo venerdì un video per dire che domenica siamo aperti, cioè un video che ha un giorno di respiro, è un video che veramente sarebbe da fare col cellulare, non vale la pena andare lì con una camera da presa da 40.000 euro per fare quella roba lì, capito? Non è nemmeno sostenibile per me, perché io non posso pensare di prendermi una giornata di riprese e una giornata di post per fare un video in cui il proprietario di un negozio con una vetrina in provincia di Milano dice vorrei ricordare a tutti i nostri clienti che questa domenica siamo aperti con orario continuato, capito? Non è fattibile, una cosa del genere non è fattibile. Una cosa del genere sarebbe da fare col cellulare. Noi la facciamo comunque con una reflex o con una videocamera, però non in 4K. Però che cosa succede quando giriamo in 4K invece? Che probabilmente è una produzione più importante di questa e quindi stiamo usando un'attrezzatura migliore. Sicuramente se stiamo usando una fotocamera prestante sul 4K avremo probabilmente 8 bit, magari anche 10 bit di profondità colore. Questo è molto importante, ti fa tutta la differenza del mondo poi quando fai la color e ti fa differenza perché se è una produzione importante la color la fai. Quindi a differenza di un video usa e getta come quello di cui vi parlavo poc'anzi, nel momento in cui tu fai una produzione a cui tu e il cliente tenete un pochino di più, a quel punto implementi le tue conoscenze e le tecnologie che hai a disposizione e fai la color fatta bene. È un prodotto che dura di più, magari è uno spot che gira tutto l'anno, una campagna continuativa, a quel punto ha senso lavorare in maniera un pochettino più complessa. Ha assolutamente senso usare anche il 4K a quel punto perché specie se è una cosa che girerà su YouTube, YouTube applicherà automaticamente un'impostazione di codec a un video che recepisce come 4K e diciamo che gli darà una corsia preferenziale rispetto agli altri. Questo è uno dei motivi principali secondo me per usare il 4K. Innanzitutto avremo un'immagine più complessa che potremo lavorare di più, un'immagine che avrà una risoluzione migliore e quindi anche se scalata avrà una nitidezza maggiore, quindi una qualità maggiore oltre che una risoluzione maggiore. Non per ultimo avremo anche dei vantaggi dal punto di vista web e di posizionamento perché YouTube tiene in considerazione il fatto che abbiamo fatto la fatica di girare in 4K. Per le piattaforme online il fatto di caricare un video in 4K è un plus sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto perché se io oggi pubblico un contenuto in 4K questo contenuto potrà essere ancora attuale fra diversi anni perché attualmente il Full HD è ancora lo standard, il 4K è un plus per adesso. Ma quando il 4K diventerà lo standard tutti i video che oggi vengono pubblicati in Full HD passeranno un po' in secondo piano nel senso che saranno sotto standard, sarà come pensare al 720p. Conosciamo tutti il 720p, è il fratellino piccolo del Full HD, è il cosiddetto HD Ready, quello che nessuno voleva, quello che nessuno ha mai voluto perché tutti abbiamo voluto il Full HD da subito, nonostante siano arrivati quasi insieme questi due formati. È un formato che è diventato desueto, nessuno lo vuole più usare, nessuno gira più in 720p, nemmeno le fotocamere entry level ormai girano più in 720p, hanno la possibilità ma nessuno la usa, sarebbe semplicemente sciocco. Allo stesso modo, tra un po', tra un bel po', io mi auguro, si tratta comunque di almeno di un paio d'anni secondo me, quasi nessuno girerà più in Full HD, gireranno tutti in 4K. A quel punto, avere dei contenuti caricati sulle piattaforme in 4K sarà considerato un plus gigante, perché saranno contenuti che avranno una vita più lunga rispetto a tutto quello che è stato girato in Full HD, che invece finirà un po' dimenticato. L'ultima cosa che vi voglio dire riguardo ai motivi per passare al 4K è questo. Non è direttamente legato al 4K, è più legato in generale alla sfera del videomaking. Allora, questo è un settore in continua evoluzione, e si dice comunque, ed è abbastanza vero, che ogni due anni la tecnologia fa un salto, e quindi bisogna un pochino rifare tutto. E questa cosa è vera, nel senso che abbiamo visto che ogni due anni arriva una grande rivoluzione, ogni due anni arriva un iPhone che stravolge tutto perché è molto più potente di prima, ogni due anni magari arriva la mirrorless, e quindi rivoluziona tutto, e le reflex a cui siamo abituati vanno in fanteria, e si passa una nuova tecnologia. Questo che cosa significa? Significa che se noi lavoriamo in questo settore, vogliamo essere prolifici in questo settore e continuare a starci, vale anche per gli amatori, ma soprattutto per i professionisti, dobbiamo un attimino adeguarci a queste cose, perché quando esce una nuova tecnologia, non è mai che esce una nuova tecnologia perché la casa produttrice deve venderti un prodotto nuovo, perché se fosse così, dico io non lo compro, cosa me ne frega? Cioè quello che avevo prima, tu mi fai vedere una cosa nuova che non mi interessa, non te la compro, cosa me ne frega? Il problema è che quando una casa produttrice decide di investire su una linea di prodotti è perché ha già stabilito che a te utente a casa, quel prodotto serve, quel prodotto fa comodo, quel prodotto ti migliora il flusso di lavoro, ti migliora la vita. In linea definitiva è questo quello che deve cambiare con la tecnologia, la tecnologia deve migliorare la mia vita. Pensate alle fotocamere come sono oggi, ci fanno risparmiare un sacco di tempo perché ci danno i file subito, non dobbiamo più svilupparli. Ora per quanto io sia nato e cresciuto con la pellicola e un po' ancora mi piaccia, il discorso è che non è sostenibile, io non posso dire al mio cliente guarda mando a sviluppare i rullini, ti ho fatto le mie 36 foto per tre rullini e te le faccio avere fra sei mesi. Non è sostenibile una cosa del genere. Il mio cliente le vuole il giorno stesso le foto che gli ho fatto e le vuole già finite. Per cui io devo innanzitutto avere la possibilità di controllare il mio lavoro, quindi la possibilità di rivedere le immagini a viewfinder è essenziale perché molte volte so quello che sto facendo e non ne ho bisogno, ma molte volte invece ho bisogno di vederle io e farle vedere al cliente perché devo farmele approvare in loco, devo far vedere al cliente, vale anche per il video ovviamente, io devo farglielo vedere al cliente subito e farmi dire sì va bene. Perché una volta che il cliente ha detto il lavoro va bene perché l'ha visto a monitor, a quel punto io me ne torno a casa e il cliente non può più dire non va bene, non avevo capito come stava andando il lavoro perché gliel'hai fatto vedere. Se non gli andava bene te lo diceva subito. Se una volta che arrivi a casa gli mandi i file, ti dice non va bene, bisogna rifarlo, va bene, io vengo cento volte a rifarlo, però mi avevi approvato il lavoro, se devo tornare mi paghi un'altra giornata. Questo è importantissimo. Questo è stato un miglioramento che ci ha consentito per esempio di non dover tornare una seconda volta perché glielo si fa vedere subito al cliente e il cliente può approvarlo immediatamente mentre siamo in loco. Se non va bene lo si rifà. Questo è un esempio classico di come la tecnologia ha migliorato il flusso di lavoro. Vi faccio un altro esempio. Per quanto riguarda il montaggio video, una volta, sapete che una volta nel cinema si tagliava la pellicola e si incollava col nastro. Una volta c'erano dei metodi fisici, meccanici per fare il montaggio, per far funzionare le cose. Anche le pellicole venivano sviluppate con degli acidi, con dei procedimenti molto complessi. Oggi questi procedimenti non solo non sono più in uso per il mercato consumer almeno. Ovviamente se uno è amatore e lo vuole fare esistono dei laboratori che lo fanno però è una cosa che non si fa sostanzialmente più perché non è sostenibile ed è una cosa che siamo esonerati dal dover fare. Io quando esco a fare delle foto per i cavoli miei o per un cliente o quando fotografo il mio gatto quando io faccio tutte queste cose non devo più andare in camera oscura e sviluppare cose perché la mia camera mi dà già un file che io posso gestire tramite computer. Queste sono migliorie tecnologiche che ci permettono di rimanere nel mercato. Pensate cosa succede nel momento in cui un fotografo o videomaker dice no io rimango con la pellicola io non ho voglia di aggiornarmi non ho voglia di passare al digitale va bene benissimo padronissimo tu non hai voglia però i tuoi clienti le foto le vogliono subito perché hanno il telefonino in mano sanno che possono averle subito e se tu non gliele dai subito non sei al passo coi tempi. Per questo tutto questo pippone è semplicemente per dirvi vale la pena passare al 4k perché prima o poi bisogna farlo. Prima o poi i clienti diranno a me non va più bene il video in full hd lo voglio in 4k quelli un po' meno setti che già lo dicono ci sono quindi bisogna farlo quello step lì secondo me tanto vale farlo in maniera un po' morbidina nel senso che si comincia attenzione quando si passa di tecnologia bisogna passare tutta la filiera non è sufficiente dire cambio camera perché nel momento in cui io cambio camera il mio computer vecchio si trova a dover gestire un file che pesa quattro volte di più il mio computer fa molta fatica quindi non è sufficiente dire cambio un pezzo di solito bisogna cambiarne diversi tenete anche conto che quando si lavora in 4k spesso c'è un fattore di moltiplicazione per esempio le mie fotocamere hanno un fattore di moltiplicazione di 1,8 quindi la focale diventa quasi il doppio questo cosa significa che se io voglio lavorare a 35 mm in 4k non posso devo prendermi una lente molto più wide a quel punto devo prendermi un ultra grand'angolo che mi diventa un 35 mm quindi non basta dire passo al 4k così non è così indolore lavorare in 4k e fare questi upgrade comunque richiede tempo perché bisogna fare un po' di ricerca capire cosa prendere soldi perché comunque bisogna fare degli investimenti facendo questi investimenti bisogna anche implementare queste tecnologie nuove vale la pena farlo perché in questo modo magari possiamo cominciare a prendere un pezzo possiamo cominciare a cambiare la fotocamera lavorandoci col tempo ci rendiamo conto che ci vuole un'altra lente allora cominciamo a fare delle migliorie e a un certo punto diciamo il mio vecchio computer non ce la fa più a quel punto cambiamo computer però magari l'abbiamo spalmato su sei mesi su un anno su due anni quindi cominciare a ragionarci adesso nel 2022 è importante nel momento in cui invece il cliente ci dice no deve essere 4k appunto e noi magari caschiamo dal pero non abbiamo la fotocamera il nostro computer non ce la fa non abbiamo la lente giusta perché il fattore di moltiplicazione non va bene a quel punto dobbiamo fare un mega investimento subito e anche se quello è un cliente top magari noi di spendere 3000 euro per una fotocamera 2000 euro per una lente e 2000 euro per un computer nuovo tutti insieme sono 6000 euro magari non ce li abbiamo magari il costo di quel lavoro non ce la ripaga quella spesa e magari quel cliente lì ci commissionava solo quel lavoro in tutto l'anno rischiamo o di perdere il cliente o comunque di dover fare una spesa ingente a fronte poi di non recuperarla neanche perché magari quello era l'unico cliente che ci chiedeva il 4k in tutto l'anno invece se noi ci entriamo pian pianino è assolutamente più conveniente perché in questo modo ci gestiamo le spese come vogliamo noi e quando arriverà il momento che i nostri clienti ci chiederanno il 4k saremo in grado di offrirglielo avremo fatto tutti gli step avremo anche capito cosa ci serve perché comprare tutto insieme può anche significare ritrovarsi poi a dire ok ho sbagliato ho preso questa macchina che non va bene magari che non è compatibile con quest'altra cosa magari ho preso una camera che mi dà dei codec che non vanno bene per l'applicativo che uso per montare che c'è anche quello bisogna anche vedere quando si sceglie la camera che codec fornisce che file d'uscita fornisce perché a seconda di quello si potrebbe optare per una piuttosto che per l'altra oppure si potrebbe decidere di prendere una camera perché ha un fattore di moltiplicazione diverso sul 4k quindi ci sono un sacco di fattori cominciare a studiarselo adesso è assolutamente vantaggioso per il futuro ora io spero di non avervi convinto perché se vi ho convinto forse ho anche fatto il vostro male io non voglio convincervi subito perché a seguito di questo video ne uscirà un altro prossimamente sui motivi già in parte sviscerati durante questo primo video i motivi per non usare il 4k andremo a vedere un po' più nel dettaglio perché certe volte non conviene proprio fare 4k come se non ve l'avessi già detto abbastanza è evidente che è tutta una questione di scelta dobbiamo parametrarci su quello che abbiamo di fronte sul cliente per cui stiamo lavorando sulle nostre possibilità e cercare di decidere in base a quello sicuramente se vogliamo lavorare come videomaker il 4k lo dobbiamo poter fare quindi dobbiamo essere in grado di farlo detto questo non è detto che lo dobbiamo utilizzare sempre lo dobbiamo utilizzare con cognizione di causa perché come non si porta una Hasselblad per fotografare fare un servizio fotografico per dei gattini allo stesso modo non è detto che si usi il 4k per fare qualsiasi cosa quindi andremo a vedere nel dettaglio quando è che è meglio non usarlo il 4k io vi dico semplicemente che per il momento è assolutamente indispensabile cominciare ad aggiornarsi al 4k soprattutto sembra un controsenso ma soprattutto per i canoni del web perché i video che noi oggi carichiamo in 4k vivranno molto di più sul lungo periodo rispetto ai video che carichiamo in full hd questo per me che comunque creo contenuti e anche per eventualmente chi volesse cominciare è sicuramente il fattore più importante secondo me in questo momento a questo punto non mi resta che invitarvi a mettere un bel like a questo video perché vi ho fatto risparmiare un sacco di tempo su elucubrazioni che magari non portavano da nessuna parte inoltre vi sto salvando la vita nel caso steste pensando di cominciare a mettere su dei contenuti in 4k quindi penso di essermi meritato un like e se volete anche iscrivervi a questo canale non vi perderete il secondo capitolo di questo tema ovvero i motivi per cui è meglio non usarlo il 4k per il momento signore e signori io con questo vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.